Vediamo ora come inserire le texture, quindi materiali o texture, non ci sono materiali preselezionati in questa scena e in questo file per cui dobbiamo caricarli da libreria dei materiali. La libreria dei materiali è un file che ha un nome render, si trova in un percorso che possiamo verificare con apri, support con apri, si trova sotto support ed è nel direttorio AutoCAD. Noi abbiamo due librerie in questo momento, un render e un mini, il render è quella di default di AutoCAD, per cui sapendo già quale di queste texture noi vogliamo applicare la nostra teiera, selezioniamo una texture che si chiama white matte, cioè opaco, anteprima, con importa, lo importiamo nella nostra scena, cioè nel nostro file. Abbiamo un altro materiale da importare, che è il wood tech, anteprima, e questo sarà il legno applicato al tavolo. Importa e ok. Possiamo confermare questi materiali che abbiamo appena importato nella nostra scena. A questo punto dobbiamo applicarlo, quindi attaccare white matte, attacca alla teiera. La teiera può essere selezionata singolarmente oppure attraverso una finestra intercetta, quindi destra e sinistra. Abbiamo trovato sei oggetti, confermiamo. Wood attacca e a questo punto lo attacchiamo alla superficie di base, cioè al tavolo. Ok. Confermiamo l'applicazione dei materiali. Facciamo una prima verifica dei materiali con Rai3S. Attiviamo anche la cache in maniera che l'azione di rendering venga memorizzata, quindi ci faciliti e velocizzi il lavoro. Lanciamo il render. Ecco, questa è la nostra teiera con le impostazioni attuali. Chiaramente, per prima cosa manca la luce o una serie di luci e manca l'applicazione del materiale più raffinato. Allora, andiamo a editare materiale per materiale, cioè i due materiali singoli. Vediamo il white, modifica. Per prima cosa vediamo il colore. Il colore è troppo bianco, quindi riduciamo leggermente il colore, 80%, quindi facciamo un'anteprima. Vediamo l'ambiente. Allora, in questa finestra, come possiamo vedere, ci sono una serie di attributi sui quali possiamo intervenire. e sui quali noi adesso stiamo intervenendo. Il materiale ha questo nome, noi possiamo anche cambiare il nome al materiale che poi sarà memorizzato nella libreria dei materiali. Per ognuno di questi attributi noi abbiamo una serie di controlli, ad esempio abbiamo visto il colore, un valore che va da 0, quindi 0,0 fino a 1, quindi da 0 a 1 può avere il valore massimo o il valore minimo. Noi abbiamo visto che un'impostazione di 0,8 potrebbe essere un'impostazione corretta, sempre da verificare. Abbiamo una luce ambiente che è la luce che viene dall'esterno, quindi impostiamo anche questo sullo 0,7, 70%. La riflessione di questo materiale che stiamo sempre vedendo, che è il white, è la riflessione rispetto alla luce 1, quindi il valore 100 è troppo elevato, quindi riduciamo. Ruvidità è la ruvidità del materiale, nel senso la rugosità di superficie. Riduciamo anche questa, vediamo una prevista qua. Non avrà trasparenza ovviamente, ha una rifrazione leggera, la rifrazione va da 0 praticamente a 83, quindi varia 1, è la rifrazione normale dell'aria. Se facciamo una rifrazione minore o maggiore, questa cambia. Vediamo un'altra applicazione interessante, quella del contrasto. Il contrasto è il bumping, praticamente la rugosità. Quindi dobbiamo impostare il contrasto attraverso una ricerca di un file che possiamo trovare nel nostro cd in mappe capitolo 12. Utilizziamo la texture refmap tga. Da notare che le mappe possono avere diversi formati, o jpeg o tga. In genere il formato tga ha una qualità migliore, ma non cambia di molto per applicazioni normali. Quindi facciamo un apri. Noi possiamo avere già un'anteprima di questa texture. Il contrasto vale solo nella parte che riguarda l'effetto di bumping, quindi la rugosità. Valore 1 è il valore massimo ed è sempre abbastanza accentuato. Un valore corretto potrebbe essere quello che va sotto lo 0,05, quindi 0,03 è un valore medio. Con regola bitmap abbiamo una possibilità interessante di regolare l'intensità di maglia, cioè quindi la scala della nostra maglia. Il valore 1 è il valore che fa coincidere, muovendo questi due controlli, fa coincidere la texture con l'oggetto. Modificando questa scala, come si può vedere in questo caso, noi abbiamo questo grande, cioè due neri e un rosso, è la texture, che è molto più grande dell'oggetto. La scala è 6. Proviamo a vedere un rapporto prospettico di 6, per tutte e due, quindi valore uguale, e verificare l'applicazione di questa texture. Con ok confermiamo. Lanciamo il nostro render. Ecco, questa è la teiera a cui è stato applicato il rendering che abbiamo appena visto. Facciamo uno zoom per verificare una parte. Rilanciamo il rendering. Allora, come si può vedere, questo è il risultato del bianco e del contrasto, cioè del bumping, a cui abbiamo lavorato adesso. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti